Pancera dopo il parto o dopo il cesario? Sì? No? Forse? Ciao, sono la dottoressa estetica Chiara, mi occupo di maternità e benessere femminile a 360 gradi. Te lo dico subito subito. No, no, no. Pancera no. Ti spiego il perché. Allora, dopo un parto, che sia naturale, che sia cesario, il nostro pavimento pelvico è molto rilassato. Se noi andiamo a stringere a livello addominale perché utilizziamo una pancera, facciamo un po' l'effetto, perdonatemi per il triste paragone, del tubetto di dentifricio senza il tappo. Se io lo strizzo dal centro, cosa succede? Il dentifricio scende verso il basso e questo è quello che può succedere ai nostri organi se noi utilizziamo una pancera stessa dopo aver partorito, dopo aver avuto una gravidanza. Rischiamo di creare una pressione troppo forte sul nostro pavimento pelvico, rischiamo di creare un indebolimento del pavimento stesso con sintomi come ad esempio la perdita urinaria e addirittura andare a favorire i prolasti, cioè la discesa degli organi, la vescica, l'utero o il retto. Qualcuno mi dirà, ma a me l'hanno consigliata perché ho avuto un parto cesario e quindi la pancera mi aiutava nei movimenti. Quando viene fatto un cesario, gli operatori allontanano i muscoli retti dell'addome, quindi i muscoli che chiudono anteriormente la nostra pancia. Quindi la pancera effettivamente aiuta nella continenza della pancia, ci aiuta nei movimenti, ci aiuta a sentire meno male, ci aiuta a rialzarci prima dal letto e così via. Però è un aiuto che va a creare delle problematiche. Una è quella che ti ho appena spiegato. La seconda è che in realtà se noi aiutiamo dall'esterno i muscoli, i muscoli diventano più pigri, cioè ci metteranno più tempo, faranno più fatica a riprendersi, a riprendere la loro tonicità e ad andare a richiudersi, perché è quello che deve avvenire a livello dell'addome, altrimenti c'è il rischio di formazione della diastasi. Ho fatto un video sulla diastasi addominale e ti lo lascio qui nelle schede e nel link in descrizione. Quindi la pancera è assolutamente sconsigliata. Il consiglio dopo il parto, che sia naturale che sia cesareo, è quello veramente di andare gradualmente, di non alzarsi ripetutamente, soprattutto se hai fatto il cesareo, di camminare ma poco, quindi di stare in realtà il più possibile sdraiata, non tanto in piedi né tanto seduta, proprio perché si deve riprendere il pavimento pelvico e si devono riprendere i muscoli addominali. Quindi meno sforzi possibili nei giorni dopo il parto, dare il tempo ai muscoli per recuperare un po' di tonicità e se sai già fare gli esercizi del tuo pavimento pelvico, puoi iniziare a farli già qualche giorno dopo il parto. Ti ricordo anche che dopo 4-6 settimane dal parto, naturale o cesareo, è assolutamente necessaria una vita di valutazione del pavimento pelvico e puoi tornare ad allenarti con il corso online Donne e Movimento. Trovi tutti i link in descrizione. Se ti è stato utile, condividi questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao!